Belusconi sta cercando di suggerire l'agenda all'attuale Presidente del Consiglio. Non devi battere i tacchi, devi battere i pugni, devi, devi, devi. Prima di tutto Belusconi è un semplice deputato, non ha alcun titolo per far questo e poi sta dimenticando che due anni fa quello che è successo, lui non ha battuto i tacchi, ha battuto le mani, si è preso gli sberleppi di tutto il congresso europeo, ha dovuto rassegnare le dimissioni e ora impone ad altri di fare ciò che lui non è riuscito a fare. Ripeto Berlusconi, fai ridere i pugni, veramente anche questa cercare di condizionare l'attuale governo dove te sei una parte come altre e non il solo. L'ultima batosta elettorale relativa alle amministrative, non ti ha insegnato nulla? Non ti insegna proprio nulla? Te credi che il mondo sia fatto di gente come quelle che hai te nelle tue grinti, come io chiamo gli appecorati? Ma in giro non ci sono appecorati, c'è gente con la schiena dritta. Questi dovresti ascoltare e non le tue appecoramenti, le tue battimano, le tue peana, tutti interessati. Alla finita.